...della panchina, protagonisti Vincenzo Montella e, almeno fino a ieri, la Roma. Co-protagonisti il Catania e, suo malgrado, il presidente Nino Pulvirenti. Poi ci sono gli altri attori, chi con chance concrete, chi semplice comparsa, cioè i nomi accostati alla panchina rossa-azzurra. E sì, perché, come si dice, non si può fare i conti senza l'oste, senza allenatore, non può partire tutto il resto e i rumors di mercato restano tali. La storia è arcinota, Montella sembrava destinato alla Roma, la Roma voleva l'allenatore campano. Pulvirenti rispondeva a picche in nome del contratto che lega il tecnico ai colori rossa-azzurri fino al 2013. Semplice e complesso allo stesso tempo. Pulvirenti, seppur fra ammissioni e qualche frase sfuggita, resta sulla sua posizione. La Roma chiede a Montella di liberarsi da solo e, storia di questi ultimi giorni, la candidatura dell'aeroplanino per la panchina della lupa sembrerebbe vacillare più che mai, perché i giallorossi avrebbero virato su Zeman. Forse la Roma bleffa, forse è tutto vero e così Montella potrebbe anche avvicinarsi alla Fiorentina. Tutte storie lontane dai tifosi e dalla società rossa-azzurra, ma comunque legate, perché quando si scioglierà il nodo Montella, che in caso di mancato accordo con il Catania potrebbe presentare le dimissioni all'inizio della prossima settimana, si potrà ufficializzare l'alternativa sulla panchina etnea. E allora via la rida di nomi, anche se uno è quello più in voga, Pasquale Marino, che nel frattempo si è svincolato dal Genoa e il candidato principale si vocifera già di un possibile biennale. In tre settimane tanti tecnici accostati al Catania, fra questi di Carlo, che però è rimasto al Chievo, oppure Delio Rossi. Sembra che la società al momento abbia pensato ad un allenatore esperto e non ad uno giovane. Nel primo caso Marino resta in pole, nel secondo, che comporta il rischio di un altro abbandono dopo una buona annata in rossa-azzurro, ecco Marcolin o Maran, che tanto giovane non è, ma non ha esperienze in A. Poi ci sono i nomi a sorpresa, come quello di Ficcadenti. La scelta definitiva sarà compiuta collegialmente da Pulvirenti, Gasparin, Bonanno e Salerno. L'importante è che parta l'effetto domino, chiudere la vicenda Montella, poi il nome del nuovo tecnico. Infine si parlerà di mercato, di Gomez e di Barientos, di Lodi e di Lopez e dei nuovi acquisti che garantiranno continuità al Catania e che serviranno all'allenatore. Figura cardine per chiudere il waltzer della panchina e cominciare un'altra girandola, quella legata ai nomi dei giocatori.